Ci avete rotto il cazzo! Ci avete rotto il cazzo! Ci avete rotto il cazzo! Avete capito? Ci avete rotto il cazzo! Branco di merda! Siete un branco di merda! Una cosa imbarazzante! Una cosa imbarazzante! Una cosa imbarazzante! Io mi sento a disagio! Guardavo la partita e mi sentivo a disagio! Mi sentivo mortificato! Mi vergognavo! Imbarazzato! Per un branco di merda! Che vanno a fine partita a chiedere scusa! Domani stanno al mare alle mardive! Non cazzo stare domani eh! A far finta alle navi per più ai milioni! A chiedere scusa! Per finta! Poracci! Porrelli! Branco di scemi! Una cosa imbarazzante! Io ragazzi non ho mai visto una Roma così scarsa! Sono anni e anni che faccio sfogo sulla Roma! Ma io una Roma così ridicola non l'ho mai commentata! Non ho mai visto! Non ho mai vissuto una Roma così sudicia! Così infame! Io non l'ho mai vista! E vi chiedo scusa per questa mia scurrilità! Vi chiedo perdono! Ma non ho altri mezzi termini! Non ci sono altri termini! Vi chiedo perdono per la mia maleducazione oggi! Ma ragazzi non posso fare altrimenti! Non ci stanno altri modi di commentare questo scempio visto in campo! Giocatori che sono dei bamboscioni! Ridicoli! Veramente un qualcosa di... Di vomitevole! La Fiorentina ha fatto quello che gli pareva! Ci prendevano per i fondelli! Ci hanno preso per il culo dall'inizio alla fine! Una squadra senza grinta! Senza cuore! Senza anima! Senza nulla! Nulla! Poi! Non commentiamo Iuric! Anzi commentiamolo! Perché se non arriva l'esonero oggi! Per coerenza potete mandare a casa Iuric che abbia o non abbia colpe! Un allenatore limitato e che non sia un allenatore limitato! Perché dopo la partita di oggi Iuric non deve andare a casa! Paga sempre l'allenatore! La legge vale per tutti! Deve essere coerente! Perché Iuric ha sbagliato formazioni dall'inizio! Lo dimostrano tre cambi in 45 minuti! Due nel primo tempo e uno nella ripresa del secondo tempo! E poi per il resto Iuric è stata una mummia! Una mummia! Una statua messa lì a bordo campo! Una statua messa lì a bordo campo! E poi i comportamenti di Mancini e Cristante che non rientrano per seguire il secondo tempo! Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando! Mancini e Cristante affanculo! Ora! Hanno pure il coraggio di ribellarsi! Capito? Pure il coraggio di ribellarsi ci hanno sti due! Ringraziassero Dio che giocano ancora nella Roma! E hanno il coraggio di ribellarsi e non andare in panchina a seguire la Roma! No! No ragazzi! Che sia un contro allenatore! Che sia una ribella e non me ne frega niente! La Roma prima di tutto! Quindi voi due scemi! A casa! Occhi delle scude in ginocchio o a casa anche! Non guardi in faccia a nessuno! Non guardi in faccia a nessuno! Perché siete un branco di pippe! E non veniamo qua adesso a fate Bove! Perché Bove ha fatto un partitone! Bove è stato anche un signore quest'oggi! Ed ordo Bove! Se n'è andato! Non se n'è andato! Sono tanti i cacciatori che vanno e vengono dalla Roma! Non siamo vedove di nessuno! Nonostante io in primis Bove l'avrei tenuto! Ma ricordiamoci che è stato anche il colloquio con De Rossi che l'ha fatto fuori! Ok? Bove l'avrei tenuto! E per me sarebbe stato anche il titolare! Ok? Ma non stiamo a farla vedove di nessuno! Perché i giocatori vanno e vengono! E quanti nei rincontri di avversari! E Bove oggi è stato un signore! E questo l'ho sottolineato! Cambiamento adesso! Ora!